è possibile risolvere il problema di Epic Games ripristinando così l'applicazione quindi salva tutti e ben tornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video ti spiego come risolvere i problemi riguardo a Epic Games che non si avvia proprio su Windows quindi in questo caso chiudiamo un attimo Epic Games io ovviamente lo chiudo però tu che non riesci ad avviare l'applicazione vai direttamente su AppData quindi scrivi sulla barra della cerca esegui %AppData% vai su AppData local scendi fino a giù fino a trovare la cartella di Epic Games eccola qua Epic Games Launcher entriamo dentro la cartella save eliminiamo così le cache facciamo elimina il crash report client chiudiamo qua config se in questo caso non dovesse proprio funzionare il procedimento a eliminare così la cartella delle cache elimina direttamente la cartella Epic Games Launcher non farà nessun danno a Epic Games tanto hai tolto solamente le cache quindi in questo caso una volta fatto tu se vai su Epic Games devi accedere di nuovo al tuo account quindi quello che abbiamo fatto noi è un ripristino a Epic Games se non dovesse proprio andare una volta cancellate così le cache reinstalla l'applicazione quindi chiudiamo qua quindi chiudiamo qua andiamo su servizi servizi del sistema scende fino a giù fino a trovare Epic Online Service ci clicchi sopra sul stato del servizio se è arrestato fai avvia avvia così questo servizio e qua fai automatico e fai applica e fai ok una volta fatto non aprire Epic Games chiudi qua e riavvia il tuo sistema una volta riavviato apri Epic Games quindi vai su Epic Games direttamente sulla barra della ricerca fai apri il percorso file quindi fai su mostra attrappozioni proprietà eccolo qua quindi ora andiamo a fare delle modifiche su Epic Games sulla sua proprietà compatibilità esegui il programma in modalità compatibilità per qualsiasi versione che voi vogliate quindi potete provarle tutte io metto Windows 7 disabilita l'ottimizzazione di schermo intero ed eseguiamo questo programma come amministratore sempre come amministratore e fai applica sicurezza ok chiudiamo qua e possiamo avviare Epic Games ecco come ho detto prima devi fare di nuovo l'accesso a Epic Games quindi io vado su Google e faccio l'accesso il codice di autenticazione che puoi trovare direttamente sull'applicazione su Play Store che si chiama Authenticator e colleghi Epic Games e colleghi anche il tuo account quindi Authenticator il codice una volta fatto ed ecco Epic Games a me si è avviato senza problemi ovviamente se hai altri problemi puoi sempre aggiornare i driver per la tua scheda video quindi se questo video ti è stato utilissimo se hai altri problemi commenta sotto al video e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao